Ciao a tutti, in questo video voglio parlare della coppia Sagittario-Leoni-Namore. Questi due segni, diciamo, formano una coppia di fuoco, sono due segni di fuoco e sono entrambi generosi, ottimisti, ci vuole poco per cui vadano d'accordo, hanno una forte, diciamo, compatibilità, la loro collaborazione è costruttiva e fanno le scintille, amano viaggiare, entrambi sono curiosi, amano, diciamo, vivere una vita molto intensa e si stimolano l'un l'altro. Il rischio, diciamo, è il cedere all'infedeltà, soprattutto da parte del Sagittario, però al di là di questo rischio è veramente una coppia ottima, una coppia scintillante, per cui sono veramente affini da questo punto di vista. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale, iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!